Ora, ragazzi vlog, allora ragazzi vlog a tutti, per la mia prima volta nella vita mi sono fatto le analisi al braccio, guardate, cioè la mia prima volta mi sono fatto le analisi al braccio, ora un po' mi fa male, cioè quando tipo piego mi fa un po' male, quando spingo, tipo, che premo qualcosa, tipo quella nuvoletta, quella montagnetta, quella scivola e dove mi hanno messo il cotton fioc, là al centro c'è la puntura, se io tipo lo premo, infatti mi fa un po' male perché all'interno c'è la vena del sangue. Voi che ne hai pensato? Ho fatto bene a fare questo esame? Scrivetemelo qua sopra, ciao!